Sono successi diversi incidenti a Torre del Greco negli ultimi giorni, cosa ne pensa? La sicurezza è zero, non ci stanno controlli, specialmente per le moto che frecciano a tutta velocità. Se ci vengono andate, delle volte mi buttano sotto, non riesco ad attraversare, quindi ci vogliono più controlli. Oltre a questo, lei reputa maggiori responsabili gli automobilisti o i pedoni? No, gli automobilisti, i pedoni non ci hanno colpa. Riguardo al problema della viabilità, volerebbe dire qualcosa al sindaco per risolvere questo problema? Mancanza di semafori, mancanza di segnalazione, forse è l'unica città in Italia che non abbiamo i semafori. Mettere i semafori, questa è l'unica soluzione. Nessuno pensa agli altri, fanno sempre di testa loro. C'è più traffico sui marciapiedi che dovete attraversare, non si fermano, non mettono strisce pedonali a ogni, non dico ogni metro, ma metteteli qua, ad esempio è un incrocio bruttissimo, perché chi gira così, chi gira, non si fermano a volte, camie che non possono fermarsi. La sicurezza è una porcheria. Una cosa poi vorrevo dire, hanno fatto questi cosi elettrici, io devo guardare dietro, cammino e guardo dietro, vado a sbattere, sapete perché? Perché mi buttano sotto, lo fanno male, si rubano le ossa, pure le biciclette elettroniche camminano sui marciapiedi. Questa è la cosa peggiore che c'è, i vigili vedono quello che non devono vedere. Vuole dire qualcosa al neosindaco riguardo alla sicurezza stradale? Allora voi salite, vi hanno votato, fate il vostro dovere, dice ma quella adesso è salita, date di tempo, incomincia a far tagliare gli alberi, passate voi qua, voglio vedere come passate, dovete abbassarvi. Secondo lei a Torre del Greco c'è un problema di viabilità o è l'indisciplina degli automobilisti? È un po' perché siamo troppe, le auto sono troppe, è un po' perché abilità e non c'è controllo. Vuole rivolgere una domanda al sindaco? È che mette un po' più questi vigili urbani che controllano un po' il traffico in Groscia, parcheggiano male, tutto storto eccetera eccetera, e questa è la cosa che è importante. Cosa pensa della viabilità a Torre del Greco? Sicuramente bisogna essere civili, non bisogna correre, questo sì. Secondo lei c'è una maggiore indisciplina da parte degli automobilisti o da parte dei pedoni? Guardi, molte volte i pedoni poverini stanno sulle strisce pedonali e proprio gli automobilisti sono incivili, quindi di questo sono sicura. La disattenzione da parte di chi stava attrapassando la strada, sicuramente, e la disattenzione probabilmente dell'autista. Troppe macchine, probabilmente le macchine vengono prese anche quando non c'è necessità.